Corvino prova la gancio, ce la fa per Rescio! Calcio d'angolo, calcio d'angolo, ci sembra giusta la decisione dell'arbitro. Nardò ha chiesto il calcio di rigore ma l'intervento del giocatore del Trani era sulla palla. E calcio d'angolo, comunque Nardò pericoloso, soprattutto con Rescio e con Corvino. Corvino dalla bandierina. Battuto, secondo palo, palla in area di Pino, fuori, fuori, fuori.